In questi ultimi spazi di campagna elettorale a Muggia c'è stata anche una presa di posizione del vice sindaco, l'unca attuale candidata sindaco del centro-sinistra Marzi, inerente alla nomina di Salviato Presidente dell'Inter Club, che insomma ha fatto discutere appunto una settimana del voto alla sua elezione. Mosetti però vuole replicare perché non tutti hanno il famoso chi è innocente scagli la prima pietra, no? Esatto, è una risposta che il nostro candidato sindaco Stefano Norbedo non vuole dare, è un attacco piuttosto basso, è un attacco diciamo assolutamente ricevibile nella misura in cui sembra particolare come la candidata di SELP di Laura Marzi si attivi su un tema che è quello del conflitto di interessi ora sul Salviato dell'Inter Club. Visto che abbiamo segnalato in Consiglio Comunale come opposizione la posizione piuttosto ambigua del consigliere comunale del Partito Democratico Igor Donadel nominato come Presidente della Consiglio dello Sport in giugno 2015 è dal forte legame con il Muggia Calcio. Quindi è una presa di posizione questa meramente iprocrita e inarrivabile. Tra l'altro nella stesso attacco la Laura Marzi esalta le qualità di Marco Salviato come dalle doti di organizzatore e dalle grandi capacità della gestione appunto delle associazioni sportive. Quindi è un attacco praticamente inarrivabile, sono gli ultimi colpi della campagna elettorale che gli arresta a PD e SEL. Grazie. Senza Centro Destra ha presentato una denuncia, un esposto al comando dei carabinieri di Muggia inerente a violazioni da parte dell'amministrazione comunale come a Trieste o meglio di politici che ricoprono ruoli istituzionali che sfruttano il comune. Anche a Trieste ci sono state parecchie polemiche. Esatto. Questa qua è stata un'azione che ha venuto a fare presso la tenenza dell'arma dei carabinieri a Muggia per verificare se chi all'interno delle pubbliche amministrazioni è candidato in questa campagna elettorale ha violato o meno la legge 28 del 2000 che appunto come dicevamo regolamenta gli spazi durante la campagna elettorale. È una cosa che abbiamo dovuto fare ma che di partenza è stato un sollecito da parte di gran parte della cittadinanza e anche di altri esponenti politici consideramente aumento apposti al nostro partito quindi noi siamo stati i primi a raccogliere questa necessità a farla nostra e a denunciare la situazione.